Ci siamo, signori. Io sono fiducioso. Ah no, aspetta, io devo fare tutto il giro diverso. Io sono relativamente fiducioso. Può sempre andare storto qualcosa, eh. Possiamo sempre perdere un Pokémon. Però guarda. C'ho Shiftry che è un buon sacrificio, volendo. Quindi. Allora. Ah no, questo ci darà, però se ricordiamo ce n'è. Allora, Jara. Jara tira Raindance, anzi tira Taunt, poi tira Raindance. Aquafang. Poi entrerà quasi sicuramente Exca a quel punto. Switch di Geridos subito dentro Mianxiao. Mianxiao, Rage, Exca Drill. Fake Out, Drain Punch e giù. Se ci switcha dentro su Poltegeist, no problem. Noi entriamo di... Entriamo di Shiftry. Ed è che io. Se non prendiamo danno da Poltegeist, che è molto possibile, tiriamo un Parting Shot. Se entra Garchomp e poi entriamo di Memoswain. Memoswain dopo doppio E-Shard dovrebbe tirarlo giù. E ha buone possibilità di poterne tirare un terzo. Buonissima possibilità, oserei dire. Soprattutto se entra dopo Parting Shot di Shiftry. Kangas, Canferro, Torneggi e Slash se lo gestiscono. Se poi dopo dovesse rientrare in un secondo momento Exca Drill. Comunque Mianxiao fa la stessa cosa. Quindi al massimo Exca Drill rimane per ultimo e muore. Stessa cosa per... Per Ipoudon. Se entra Ipoudon io rimando sempre Geridos. Vado a pisciare e poi iniziamo. Tukutukunabhi! Vi ho trolletto. Vado un attimo in bagno e poi si inizia, signori. Vado un attimo in bagno e poi si inizia. Vado un attimo in bagno e poi si inizia. Vado un attimo in bagno e poi si inizia. Vado un attimo in bagno e poi si inizia. C'era il bagno occupato Epico Eccoci qua, signori C'è già la sole emoticon? Ok, sì Dai Secondo me ci siamo Secondo me ci siamo Calma No misclick se è possibile Sandstream Taunt Perfetto E ci siamo Qua prendiamo l'hit di sabbia Che ci porta a KO Swexka Redstone, grazie per il Prime Raindance Qua arriva Rockslide Ok, no, non è mai vero Andremo a KO comunque Ok, e abbiamo tolto la sand Problema grandissimo di questa roba Acqua fenga E questo è giù La scena, porco 2 Scusate 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 Exca Qua abbiamo detto Insta switch in Miencho Sword dance Ok Lui ora crede di avere il KO Oh, potrebbe anche switcharlo Ma secondo me il boost non lo butta via Fake out Ok Perfetto Lui tentenna Drain punch a one shot Ha switchato Oh sì Oh sì Pinko Paolo, grazie per il Prime Boost di fortuna con la sua Ok, Polti guys L'ha switchato D'accordo Per me non c'è alcun tipo di problema Shift 3QG Lui potrebbe tirare store power addirittura C'è il smash Questo è fondamentalmente morto Ok, White Herb D'accordo Occhio a miscliccare Sucker punch Let's go Giù Ale, sta per partire anche live train Signori Sarebbe il momento di farlo partire Questo Shift-3 Quindi tu adesso chi tiri Kanga Ferro FAKE OUT IRON BARBS SECONDO FAKE OUT ALTI IRON BARBS Allora Io qui potrei addirittura tirare Iron Defense Ma secondo me non mi conviene A me conviene looparlo così Perfetto P-up punch E poi di nuovo ferro torna Crunch Qui il dannetto si sente un po' di più Perfetto Left is Altro P-up punch Altro edge Ferro Cazzo mi ha droppato la difesa Eh vedi Il bastardo Altro edge Eccala Mela detta Ci sta Vedi che una certa la CPU è capacitiva Però non così tanto Ok Kang è giù La GPU di Radical Red ci arriva a un certo punto Ragazzi eh Ci ha messo solo un po' più del dovuto Qua abbiamo preso degli dannetti Mica da ridere Garchomp suppongo X-Camp Mien Show Sword Dance Qua addirittura non mi serve neanche fake out Io tiro diretto e drain punch Let's go Garchomp Davanti a Mien Show Chi me lo fa fare di non tirare U-Turn U-Turn Memo Terremoto Ok Incasso Ice Shard Iaci E alla prossima sei giù Terremoto Non crittare per favore Let's go Ed è GG signori Uff Uff Ottimo plan Ottimo plan Great Game planning year Signori Oggi Intera stream Senza perdere Pokemon